Grazie, grazie, grazie. Attenzione Alessia, il prossimo protagonista, tu lo conosci molto bene perché arriva dalla tua isola, direttamente da... Uuuuh, Uras! Oddio, bocchieri, la prascina che ha lasciato i fornelli a deciso di cantare. Non ti preoccupare, questo vero cantante. Allora, cerchiamo la sua canzone, si intitola Elone, lui è Venerio Scano! Buonasera a tutti! Grazie, grazie. Grazie, grazie. 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 Che si rivede. Padre Elio, ma mi piace da pazzi questo pezzo. Mi piace. Sei tornato a andare in campo, tu che sei umane. Sì, un pochino sì. Non sono i tuoi anni, però io me li ricordavo, a me ricordavo un po' anche George Michael, lo stesso si fa a piacere. Sì, quel ciuffo dici, ho proprio il mood. No, 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 il mood, però ti devo dire che credo sia un complimento per te. Assolutamente, è un grande risposta. Grazie. Mi piace, mi piace. Grazie. Mi ho fatto ballare con una scarrata. Caro mio, dimmi subito, ti sei risentito con qualche isolano tipo Rashida? No, in realtà con Rashida non ti sono risentito con altri. No, però tu, scusami, Rashida, a me non mi frega niente. Sì, io vengo e sono altri famosi. Non mi frega di venire qua, Adricina. Mi frega di sentire l'altra. E Cecilia l'hai sentita? La Cecilia la sentiamo tutti i giorni, un muro, un giorno o un buonasera. Che poi la fai come una sorella, Belen. in realtà io imitavo Belen poi quando ho conosciuto Cecilia dicevo ma io l'imitazione di Cecilia è uguale alla tua perché lei è un po' più chiusa e invece Belen rimane molto più aperto molto più ariossa è molto più espressiva è uguale, io morivo durante questa edizione di Isola di Famosi non riuscivo a condurre certe volte perché mi fa morire da ridere comunque quelli spoiler famosi lasciamo stare detto questo il tuo personaggio mi piace da pazzi grazie è stato in grandissima forma e quindi grande, mi piace grazie mille allora Valerio Scanning, grazie Valerio ciao ciao allora tutti a tutti